Dovrebbe essere più un bascone questo ma questa è più bassa dopo tutti gli anni che venite su Simo, ma dopo vent'anni, porco lì mi ha vinto quella roba qua non dai un po' giù però se vai di testa fantastico questa cosa si ma guarda che prima non c'era perché hanno messo lì quelli lì per farla non c'era prima non esagerare perché faccio con la zucca cioè troppo no Zampi fai la foto ma va? che aspetta che aspetta guarda che aspetta Simo sta sotto lì sta sotto lì non ti muove vai 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 due vai vai Piano! Piano! Cos'hai rilasciato? Cos'hai rilasciato? C'è un po' che ti dò il salvagente! Hai scoperto a te? Sei venuto fino a San Lucio per non fare il bai Sì, l'ha fatta perché prima non c'era così C'era il pezzettino ma andava via tutta Poi vedi l'hanno chiusa lì, l'hanno chiusa di là Si è fermata Ti faccio fare la doccia se vuoi dopo Devi andare a casa